Benedetto sia il nome del nostro Signore Gesù Cristo credo che noi tutti siamo già stati benedetti se veniamo con la corretta attitudine e con il rispetto verso la santa parola di Dio Egli ci parlerà e noi riceveremo la sua parola tramite rivelazione divina nel nostro tempo la parola scritta è diventata la parola rivelata la parola vivente e Dio ha fatto una così grande opera in mezzo a tutte le nazioni con gli eletti da parte mia vi auguro specialmente in riferimento ad alcuni dei nostri fratelli che sono venuti dalla Germania in questa riunione noi tutti conosciamo il fratello Jean Lambert Egli traduce dal tedesco al francese E ogni ultima domenica del mese Egli viene a Zurigo per tradurre e ogni primo fine settimana Egli viene a Krefeld per tradurre complessivamente abbiamo adesso 15 traduttori quando io parlo in tedesco loro traducono in 15 differenti lingue e su tutta la terra il popolo di Dio può ascoltare l'originale parola promessa di Dio per questo giorno poi vorrei anche riferirmi al nostro caro fratello Paul Boio dove sei alzati in piedi Dio ti benedica Egli è originario del Ghana ma vive in Germania poi abbiamo il nostro caro fratello Thomas Smith dove sei alzati in piedi Dio ti benedica Egli è stato uno di quelli che ha visitato Jeffersonville per incontrare il fratello Sotman che era presente quando il Signore diede la risposta tramite il fratello Branham in merito alla chiamata divina poi abbiamo un fratello molto speciale e che Dio ti benedica potentemente il nostro fratello Arben Mulai dove sei alzati in piedi affinché tutti possano vederti potete immaginarlo un musulmano un kosovaro musulmano che ha ricevuto il Signore Gesù Cristo come suo personale Salvatore che ha ricevuto la rivelazione divina della Santa Parola di Dio per questo giorno e per questo tempo così che tutti coloro che sono venuti per essere qui oggi siate benedetti anche il nostro fratello da Atlanta e da ogni parte che questo giorno possa portare frutto per tutta l'eternità come sapete 55 anni fa io ero un giovane uomo ma per la grazia di Dio io guardo indietro a 55 anni nel ministero su tutta la terra e non soltanto viaggiato ma ho avuto tutti i programmi televisivi e programmi radio in differenti nazioni e in differenti lingue servendo il popolo di Dio condividendo la parola promessa di Dio per questo giorno e tutti coloro che hanno orecchi da udire ascoltino ciò che lo spirito dice alle chiese e il nostro caro fratello ha letto in Matteo capitolo 25 avete tutti prestato attenzione a ciò che egli ha letto a ciò che egli ha letto tutti avevano le lampade le avvedute e le stolte ma le avvedute hanno preso con sé i contenitori con l'olio per riempire di nuovo le loro lampade e le stolte non l'hanno fatto ed ecco il mistero per la grazia di Dio l'olio rappresenta sempre lo spirito santo così per la grazia di Dio noi non ci siamo fermati da qualche parte lo spirito di Dio ci ha guidati in tutti questi anni sempre più in profondità nella parola di Dio per comprendere ogni cosa tramite rivelazione divina non soltanto tramite la lettera la lettera uccide ma lo spirito vivifica dunque siate certi che non avete soltanto le lampade con voi ma l'olio per riempire di nuovo per riempire di nuovo e che ogni riunione sia il momento in cui potete riempire di nuovo le vostre lampade e continuare a seguire il Signore nella luce della sua santa e preziosa parola come comprendete abbiamo una responsabilità molto molto grande e io credo personalmente che è la più grande responsabilità nel regno di Dio che sia mai esistita sulla faccia della terra tutti gli uomini di Dio i grandi uomini di Dio come Abramo il Signore gli parlò personalmente lo visitò parlò con lui personalmente e gli diede delle promesse Mosè era un grande uomo di Dio come noi tutti comprendiamo Dio aveva fatto la promessa dopo quattrocento anni io porterò il mio popolo fuori dalla schiavitù e quando il tempo è giunto esodo capitolo 3 e capitolo 4 il Signore apparve a Mosè con il messaggio lascia andare il mio popolo lascia andare il mio popolo e il 7 maggio 1946 quando l'angelo del Signore visitò il fratello Branham furono dette queste parole come a Mosè furono dati due segni due segni sono dati a te come conferma per il tuo ministero divino dunque noi comprendiamo che c'è una responsabilità molto molto grande per coloro che portano il messaggio al tempo giusto ma come fu detto al fratello Branham non fare questo viaggio in Svizzera ma ritorna a Jeffersonville e in magazzina del cibo ed egli vide qualcuno che portava delle verdure che li portava nel magazzino ma il magazzino non è ancora la tavola imbandita nel magazzino c'è il cibo e poi ci deve essere qualcuno che prenda il cibo immagazzinato e lo metta sulla tavola e lasci che il popolo mangi così per la grazia di Dio tutti i profeti dell'antico testamento tutti gli apostoli del nuovo testamento hanno immagazzinato hanno immagazzinato il cibo la parola promessa per questo giorno ma adesso noi prendiamo questa parola promessa e la mettiamo sulla tavola davanti al popolo di Dio per essere partecipi per essere partecipi delle promesse direttamente e come c'è stato detto il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo e come disse Giovanni Battista che ha preceduto la prima venuta di Cristo io vi battezzo in acqua ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco e il giorno di Pentecoste c'erano 3000 persone radunate e hanno ricevuto la parola di Dio nella prima predicazione nella prima riunione 3000 persone furono battezzate nel nome del Signore Gesù Cristo il giorno di Pentecoste e hanno ricevuto lo Spirito Santo cari fratelli e sorelle nella stessa maniera coloro che credono la parola promessa per questo giorno hanno la stessa promessa il nostro caro fratello Branham battezzava in acqua e noi tutti ci siamo riferiti a ciò ieri sera nel suo primo servizio di battesimi quando la nuvola soprannaturale è discesa e l'incarico divino fu dato di cosa si trattava il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo e coloro che adesso credono il messaggio riceveranno la finale effusione dello Spirito Santo riceveranno l'ultima pioggia e l'ultima pioggia sarà più potente della prima pioggia e noi riceveremo una doppia parte ora è il tempo della chiamata fuori il tempo della preparazione e noi tutti comprendiamo che Dio stesso vigila sulla sua parola per adempiere ciò che gli ha promesso ma è il nostro privilegio non dico dovere ma dico il nostro privilegio di credere le promesse di Dio e siccome crediamo le promesse di Dio non guardiamo a noi stessi non guardiamo alle circostanze ma facciamo come fece Abramo e gli guardava colui che aveva fatto la promessa sapendo che egli aveva fatto la promessa e si era preso la responsabilità di adempiere ciò che aveva promesso così è con noi siamo assolutamente certi che tutte le promesse di Dio e permettetemi di leggervi la luce è un po' insufficiente ma tutti conoscono 2 corinzi capitolo 1 2 corinzi capitolo 1 in cui la sacra scrittura dice qui dal versetto 20 al versetto 22 se un fratello può venire e leggere questi tre versetti dal versetto 20 al versetto 22 se qui caro fratello si leggi questi tre versetti seconda corinzi capitolo 1 il versetto 20 21 e 22 seconda corinzi capitolo 1 versetti 20 21 e 22 poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti e Dio il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello spirito nei nostri cuori nella Bibbia tedesca sta scritto il quale ci ha sigillati il quale ci ha sigillati per mezzo del suo santo spirito grazie caro fratello sì tutte le promesse di Dio sono sì ed amen tramite Gesù Cristo il nostro Signore e secondo Galati capitolo 4 versetto 28 noi siamo figli della promessa e crediamo la parola della promessa e vediamo la parola della promessa che si adempie per la grazia del Dio Onnipotente prendete questi passi della scrittura nel vostro cuore credete con tutto ciò che è in voi perché Dio vigila su di voi sulla sua parola che voi avete ricevuto ed Egli confermerà la sua parola con noi tutti ora noi che crediamo le promesse e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo Dio ha messo il suo sigillo su di noi dunque come è certo che il nostro Signore Salvatore è morto per noi e ha sparso il suo sangue e le sue ultime parole sono state alla croce è compiuto è compiuto l'opera di redenzione è compiuta il prezzo è stato pagato i vostri peccati sono stati perdonati siete stati riconciliati con Dio ricevetelo credetelo e poi andate in Romani capitolo 8 coloro che egli ha chiamati li ha giustificati e coloro che ha giustificati egli li ha santificati Dio non fa un'opera a metà ma fa l'opera completa completa e nel nostro tempo noi abbiamo sperimentato tutte queste grandi benedizioni del Dio Onnipotente e vi dico la verità ogni cosa collegata al piano di Dio al piano di salvezza è una realtà la salvezza della nostra anima è una realtà il totale perdono dei nostri peccati e come ha detto il fratello Branham noi siamo collocati davanti a Dio come se non avessimo mai peccato una totale giustificazione io credo che il sangue sparso sulla croce del Calvario ci ha redenti e ci ha riportati a Dio come persone che sono figli e figlie del Dio Onnipotente e poi come abbiamo letto noi siamo figli della promessa e crediamo la parola della promessa cari come certo che voi credete che Dio ha inviato il suo servitore profeta secondo Malachia capitolo 4 io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore 2000 anni fa è iniziato il giorno della grazia il giorno della salvezza ma prima che termini questo giorno della salvezza prima che venga il grande giorno del Signore prima che il sole sia mutato in tenebre prima che la luna sia mutata in sangue prima che le stelle cadano dal cielo Dio ha fatto la promessa io vi mando qualcuno come Elia prima prima che venga quel grande giorno cari il nostro Signore ha ripetuto la promessa in Matteo capitolo 17 in Marco capitolo 9 in Luca capitolo 9 confermando la parola promessa dell'Antico Testamento a me piace come l'Antico e il Nuovo Testamento sono uniti in armonia insieme e quando a Giovanni Battista in Giovanni capitolo 1 gli fu chiesto sei tu il Messia e gli disse no non lo sono sei tu quel profeta di cui ha parlato Mosè io vi manderò un profeta come me no e gli disse non lo sono e la terza domanda fu sei tu Elia e l'uomo di Dio disse non lo sono e la domanda è stata chi sei tu allora se non sei il Messia né il profeta né Elia chi sei tu chi sei tu uomo di Dio e nel versetto 23 Giovanni diede la risposta io sono la voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio e se andate in Marco capitolo 1 le due promesse dell'Antico Testamento sono lì in Marco capitolo 1 la voce grida nel deserto e Malachia capitolo 3 io mando il mio messaggero davanti la mia faccia per preparare la mia via e cari nessun messaggero prepara la propria via ogni vero messaggero prepara la via del Signore e come diciamo sempre Egli non collega le persone a se stesso ma porta le persone in comunione con Dio così è accaduto nel nostro tempo che abbiamo due differenti gruppi alcuni dicono soltanto il profeta ha detto il profeta ha detto e gli altri dicono il Signore ha detto la scrittura ha detto dunque per la grazia di Dio noi comprendiamo che questo è il periodo di tempo più importante e per favore ricordatevi Giovanni capitolo 8 chi è da Dio ascolta le parole di Dio questo è molto importante e vorrei leggervi oggi in primo Giovanni in primo Giovanni capitolo 4 affinché comprendiate secondo la scrittura come come lo Spirito Santo ha operato con noi che crediamo ogni parola di Dio prima lettera di Giovanni capitolo 4 leggo la prima parte del versetto 4 voi siete da Dio figlioli voi siete da Dio e poi nel versetto 6 leggiamo noi siamo da Dio potete leggere i versetti per intero qui abbiamo qualcosa alla quale dobbiamo prestare attenzione prima di leggere il versetto 4 e il versetto 6 dovremmo in realtà leggere il versetto 1 per comprendere perché perché l'uomo di Dio ha detto voi siete da Dio perché l'uomo di Dio ha detto noi siamo da Dio e chi è da Dio ci ascolta perché perché a motivo dei differenti insegnamenti i differenti insegnamenti che esistevano già nei giorni degli apostoli e anche l'apostolo Pietro nella seconda epistola di Pietro capitolo 3 ha dovuto dire che molti fraintendono ciò che Paolo ha scritto nelle sue epistole cari io sono totalmente contro i fraintendimenti sono totalmente contro i fraintendimenti io credo che i veri figli di Dio sono condotti dallo Spirito Santo e come abbiamo letto in Matteo capitolo 25 noi riempiamo di nuovo le nostre lampade riempiamo di nuovo le nostre lampade e lo Spirito Santo ci guida in tutta la verità giusto per darvi uno o due esempi e dico questo con un cuore infranto ma a motivo della responsabilità davanti a Dio quando guardo nel passato quanti differenti insegnamenti sono sorti e ognuno in queste direzioni dice io credo il messaggio io credo il profeta ma cosa credono alcuni credono che nel 1977 ci sarebbe stata la fine alcuni credono che il Signore ha già lasciato il seggio di grazia e il seggio di grazia è diventato il seggio del giudizio alcuni credono che apocalisse 10 sia già stato rimpiuto e l'angelo del patto è già venuto sulla terra no e ancora no e no e no no queste cose accadranno quando il tempo verrà ora noi aspettiamo il ritorno di Cristo la seconda venuta di Cristo e per sapere in merito alla seconda venuta di Cristo dovete leggere ebrei capitolo 9 versetto 28 dovete leggere in primo Giovanni capitolo 2 versetti 28 e 29 dovete leggere i passi nella parola di Dio in cui si parla della seconda venuta di Cristo e ciò che accadrà quando il nostro Signore ritornerà e porterà la sposa nella gloria per la cena delle nozze dell'agnello prima che Apocalisse 10 possa essere adempiuto e dico questo con amore ma devo dirlo nel nome del Signore in Malachia capitolo 3 versetto 1 ci sono due promesse io mando il mio messaggero davanti la mia faccia per preparare la via davanti a me e se andate in Matteo capitolo 11 il nostro Signore ha confermato quella parte di Malachia capitolo 3 versetto 1 essendo parte del ministero di Giovanni Battista ma la seconda parte in Malachia capitolo 3 versetto 1 dice e subito l'angelo del Signore verrà nel suo Tempio Santo quella seconda parte non è stata mai menzionata nel Nuo Testamento ma avrà luogo quando il tempo verrà e i due testimoni in Apocalisse capitolo 11 avranno il loro ministero e i 144 mila saranno suggellati e il Tempio sarà ricostruito e il Tempio sarà misurato e allora soltanto dopo questo in Apocalisse capitolo 11 versetto 15 il nostro Signore ritornerà e il regno di Dio il regno millenniale viene annunziato dunque ogni cosa al posto giusto quando il nostro Signore discende come angelo del patto non come sposo non come figlio dell'uomo ma come angelo del patto rispettate la parola di Dio e credete la parola di Dio e collocatela laddove deve essere e dove realmente è persino se andiamo nei dettagli giusto per menzionare questo punto in Apocalisse capitolo 10 sta scritto che l'angelo del patto giurerà che il tempo non sarà più così dovete andare in Daniele capitolo 12 versetto 7 quando l'angelo alza tutte due le mani e giura per colui che vive in eterno che ci sarà un tempo due tempi e la metà di un tempo che dal momento in cui il nostro signore discende come angelo del patto e nell'antico testamento egli poteva alzare entrambi le mani nel nuovo testamento egli ha in una mano il libro aperto il libro aperto e alza l'altra mano al cielo e allora i sette tuoni faranno dire le loro voci non sette grandi uomini io detesto questi falsi insegnamenti i falsi insegnamenti hanno recato divisioni divisioni e divisioni e le persone seguono un uomo invece di cristo invece della parola di dio dunque per la grazia di dio e attraverso la guida dello spirito santo possiamo collocare tutte le cose laddove dovrebbero essere secondo il piano di salvezza dunque cari prendetelo nel vostro cuore questo è il tempo di dio per le vere vergini per le vergini avvedute e cari io non parlo per me stesso non ho chiamato me stesso non mi sono dato un incarico sono stato uno che non si aspettava questo che non aveva mai pregato per questo che non pensava che potesse mai accadere ma ero là quando è accaduto e la voce di comando e penetrante del signore disse queste parole mio servitore il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato io ti manderò in altre città a predicare la mia parola il momento successivo mi ritrovai sul pavimento cari sapete a una chiamata divina c'è uno scopo collegato e quando il fratello Branham ha detto aspetta con la distribuzione del cibo finché avrai ricevuto il resto del cibo sapete cosa significa essere una parte diretta del piano di salvezza in questo tempo e come ho detto all'inizio tutti gli uomini di dio tutti gli apostoli avevano una responsabilità di condividere con noi le promesse nella parola di dio ma adesso adesso è il nostro tempo e tutti questi fratelli che sono seduti sulla piattaforma e forse nell'assemblea è la nostra responsabilità la stessa responsabilità che avevano i profeti gli apostoli e il fratello brana noi l'abbiamo oggi di condividere la vera parola di dio con il popolo di dio su tutta la terra e dare l'ultima chiamata per la cena delle nozze dell'agnello e lo ripetiamo chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito ha da dire e lo spirito proferirà sempre la parola perché lo spirito era sopra i profeti sopra gli apostoli e sopra il fratello brana per condividere la parola con noi ma adesso cari ciò che l'apostolo pietro ciò che l'apostolo giovanni e giacomo ciò che gli apostoli e il fratello brana hanno detto e scritto noi dobbiamo mettere tutto ciò armoniosamente insieme e come ho detto ieri sera chi sono io io non sono degno di sciogliere le scarpe del fratello brana il suo ministero nessun uomo di dio ha avuto lo stesso ministero che egli aveva ma io non correggo il profeta io semplicemente metto correttamente ciò che il profeta ha detto nell'ordine divino della sacra scrittura affinché il popolo di dio sappia che egli ha un piano di salvezza e che c'è un ordine divino nella chiesa del dio vivente un ordine divino nella sposa di gesù cristo e perciò non accetteremo mai un'interpretazione no niente affatto e se qualcuno mi manda un telegramma o una email in cui dice che vuole discutere con me e poi fa una dichiarazione ma solamente sulle citazioni che ha fatto il fratello Brana ma le mie discussioni non possono essere così io devo aprire la Bibbia devo aprire la Bibbia e dico questo di nuovo questi uomini di Dio e specialmente il fratello Branham avevano una tale responsabilità di condividere l'originale vera parola di Dio e cari attraverso il suo ministero la parte evangelistica la parte di insegnamento la parte profetica ogni cosa è stata curata come le riunioni evangelistiche che teneva il fratello Branham cari non c'è stato nessuno sulla terra che ha avuto simili riunioni anche qui a Londra l'uomo di Dio nel suo tragitto verso la Finlandia fece una sosta e pregò per il re Giorgio e una signora del Sud Africa di nome Nettingham venne in aereo a Londra lei era soltanto pelle e ossa e il profeta di Dio ricevette una rivelazione divina e pote dire così dice il Signore tu sei guarita io ho visto entrambi le foto quando lei era soltanto pelle e ossa e poi dopo che il Signore la guarì dunque Dio ha usato il fratello Branham in modo straordinario nel ministero di insegnamento nel ministero apostolico nel ministero profetico nel ministero evangelistico ma adesso noi riassumiamo tutte queste cose e il Signore ha ordinato i Suoi servitori in questo tempo in tutti i differenti paesi per trovare il loro posto nel regno di Dio per condividere lo stesso cibo spirituale per stare in equilibrio con il messaggio dell'ora con l'antico e col nuovo testamento armoniosamente affinché ognuno di questi fratelli possa predicare in qualsiasi pulpito ovunque possa essere e nessuno deve temere che venga detta qualcosa che non è corretta perché perché noi tutti siamo sotto la stessa unzione dello Spirito Santo noi tutti rispettiamo la stessa parola di Dio e quando il Signore ha deciso così che io fossi in contatto con il profeta per dieci anni immagazzinando il cibo e quando il Signore ha deciso così nella città di Edmonton il 19 settembre 1976 cari come voi udite la mia voce come voi udite la mia voce mi ero già vestito il sole brillava nella stanza e stavo per prendere la mia Bibbia dato che leggo la Bibbia ogni mattina ero pronto per leggere la Bibbia e poi per pregare e come voi udite la mia voce adesso mio servitore io ti ho stabilito secondo Matteo capitolo 24 versetti 45 47 io dico questo con la Bibbia aperta alla presenza del Dio Onnipotente anche i versetti i versetti i versetti dal 45 al 47 sono stati menzionati dalla voce udibile del Signore dunque per la grazia di Dio sono stato in grado di distribuire il cibo spirituale che era stato immagazzinato perché dopo che il fratello Branham è andato nella gloria tutto era passato e dopo il seppellimento tutti i fratelli se ne erano andati delusi perché era la domenica di Pasqua era la domenica di Pasqua del 1966 l'11 aprile e quando io arrivai per il funerale il fratello che stringeva la mano a tutti gli ospiti mi disse sai perché io disse sono il fratello Franck dalla Germania e le sue parole furono sai non siamo qui per il funerale siamo qui per la resurrezione è Pasqua è Pasqua egli lo sottolineò non sapevo precisamente cosa intendesse dire ma hanno cantato per due ore sol abbi fede sol abbi fede e sulle ali di una colomba bianca io non cantavo io piangevo e pregavo non ho mai pianto così tanto come ho pianto in quel giorno diceva al Signore come può la sposa essere preparata senza questo ministero ma come ho menzionato ieri quando sono ritornato nella mia camera d'albergo la pace di Dio è entrata nella mia anima e ha parlato nel mio cuore non nelle mie orecchie ha parlato nel mio cuore ora il tuo tempo è giunto di distribuire il cibo che è stato immagazzinato di andare di città in città per predicare la parola di Dio io ho fatto la mia parte ho fatto la mia parte in più di 50 anni e per la grazia di Dio tutti i miei fratelli tutti i fratelli che sono responsabili per l'India o per il Pakistan o per i differenti paesi in tutto il mondo tutti i fratelli condividono la stessa rivelazione divina condividono lo stesso messaggio predicano soltanto ciò che loro possono predicare dalla parola di Dio tutto ciò che concerne il ministero del fratello Branham sia il terzo pool o il ministero della tenda e qualunque cosa i sette tuoni qualunque cosa qualsiasi cosa ciò era parte del suo ministero lasciate che sia parte del suo ministero voi avete parte nel ministero ordinato per questo giorno insieme al popolo di Dio per ascoltare le parole di Dio questo è il reale comando dell'ora radunami il mio popolo affinché ascolti le mie parole il fratello Branham è responsabile per l'incarico e per il ministero che il Signore gli ha dato e soltanto dopo che il suo ministero è terminato il Signore lo ha portato nella gloria e il nostro tempo è giunto e ora noi guardiamo indietro a tutti questi anni e cari io devo dire questo del continuo non siamo soltanto nel tempo della fine ma siamo alla fine del tempo della fine la venuta del Signore il promesso ritorno secondo Giovanni capitolo 14 io vado a prepararvi un posto poi ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi e persino coloro che affermano che il Signore è già venuto dico questo in tutto il mondo finché noi siamo sulla terra egli non è ancora venuto perché quando egli verrà noi partiremo quando egli verrà noi partiremo così non accettate mai un falso insegnamento non accettate mai una falsa dottrina accettate soltanto la parola di Dio come ci siamo riferiti a Giovanni capitolo 8 chi è da Dio ascolta le parole di Dio e anche qui come abbiamo letto in primo Giovanni capitolo 4 voi siete da Dio perché perché ascoltate la parola di Dio non delle interpretazioni io vi sfido nel nome del Signore Gesù Cristo ricordatevi ciò che è stato letto all'inizio non siate stolti dicendo soltanto lo sposo viene e abbiamo la nostra lampada dove l'olio per riempire di nuovo per riempire di nuovo per riempire di nuovo lungo tutto questo periodo di tempo che è trascorso quante volte ho avuto bisogno di riempire di nuovo di riempire di nuovo e lo Spirito Santo ci guida in tutta la Santa Parola di Dio il nostro Signore ha detto quando lo Spirito Santo sarà venuto vi guiderà in tutta la verità dunque permettetemi di dire riassumendo ciò che abbiamo condiviso con voi oggi questo è il periodo di tempo più importante nella storia dell'umanità il tempo più importante per la Chiesa del Dio vivente il tempo più importante per la sposa di Cristo che viene fuori dall'audicea dall'ultima epoca della Chiesa con la promessa per i vincitori voi dovete vincere tutte le altre cose rimanete nella parola di Dio e perché perché la parola di Dio dice in Apocalisse loro hanno vinto tramite la parola della loro testimonianza e tramite il sangue la parola deve essere la vostra testimonianza e la vostra testimonianza deve essere la parola di Dio non delle interpretazioni non delle spiegazioni e se siete sotto il sangue la parola di Dio sarà la vostra testimonianza e in Apocalisse noi leggiamo che abbiamo la testimonianza di Gesù Cristo cari fratelli e sorelle riconoscete cosa significa avere trovato grazia davanti a Dio realizzate cosa significa essere stati eletti prima della fondazione del mondo realizzate cosa significa in in questo tempo di avere riconosciuto la parola promessa per questo giorno avere riconosciuto ciò che Dio fa adesso non dormite più svegliatevi ringraziate il Signore per il messaggio dell'ora ringraziate il Signore per la rivelazione divina ringraziate il Signore di essere parte di ciò che Dio fa proprio ora io so che il Signore verrà in breve e come abbiamo letto coloro che saranno trovati pronti entreranno nella sala delle nozze e la porta sarà chiusa e come ho detto ieri sera la mia preghiera è stata che chiunque avrebbe ascoltato la parola di Dio dalle mie labbra dalla mia bocca e che avrebbe creduto ogni parola che io possa rivederlo nella gloria così io vi vedrò nella gloria è un assoluto siccome voi credete la parola promessa di Dio per questo giorno è un segno diretto per voi e potete restare tranquilli nel nome di Gesù Cristo che siete parte della sposa che siete partecipi di ciò che Dio fa adesso e insieme vedremo il nostro Signore quando egli ritornerà e i morti in Cristo risusciteranno per primi perché gli verrà con voce di comando con il messaggio ma per favore fate una distinzione tra Matteo capitolo 25 ecco lo sposo viene e tutti dormivano e si sono svegliati quella è una cosa ma primo tessalonicesi capitolo 4 è soltanto in collegamento con la diretta discesa e venuta del Signore Gesù Cristo e quando egli discenderà risuona questo grido ed è come un comando militare è una parola di comando e i morti in Cristo risusciteranno per primi e noi viventi che saremo rimasti saremo mutati e insieme saremo portati in alto per incontrare il Signore nell'aria e saremo per sempre con lui e dopo la cena delle nozze ritorneremo con lui secondo Apocalisse capitolo 19 e avremo il regno millenniale con lui cari ditemi cosa poteva fare di più il Signore il Signore ha fatto ogni cosa ha mandato il suo servitore profeta con un ministero divinamente confermato con l'ultimo messaggio per chiamare fuori per separare voi popolo mio uscite e noi crediamo questo messaggio e ciò mostra che siete stati eletti che siete ordinati a vita eterna come l'agnello l'agnello è stato preordinato prima della fondazione del mondo per morire per noi e i nostri nomi i nomi della sposa sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo immaginate cercate di comprendere per fede ciò che Dio ha fatto per voi per me per noi tutti non di credere soltanto in modo generale come tutte le denominazioni affermano di credere ma credere Dio credere la parola promessa per questo giorno avere parte in ciò che Dio fa proprio ora e cari lo ripeto è la grazia di Dio che possiamo comprendere ogni cosa tramite rivelazione divina per mezzo della potenza dello Spirito Santo è lo stesso Spirito Santo che era sopra i profeti e sugli apostoli e cari ancora una dichiarazione se leggiamo ciò che hanno scritto gli apostoli sembra che è stato scritto ieri si adatta così perfettamente si adatta così perfettamente nel nostro tempo nella nostra vita in ciò che Dio fa proprio ora la parola scritta è diventata la parola vivente la parola rivelata e per favore che questo giorno sia il giorno che il Signore ha fatto per noi tutti se voi credete con tutto il vostro cuore la promessa per questo giorno dite amén se voi credete che Dio ha mandato il suo profeta e messaggero secondo Malachia capitolo 4 Matteo capitolo 17 Marco 9 e Luca 9 dite amén se credete che il messaggio della vera parola di Dio quale ultima chiamata prima del ritorno di Cristo risuona proprio adesso dite amén se credete che fate parte della sposa di Cristo dite amén alleluia alleluia benedetto sia il nome del Signore alziamoci in piedi per pregare alziamoci in piedi per pregare oh Dio cari qualunque cosa possa esserci nella vostra vita siamo ancora sulla terra ci sono dei giovani qui ci sono persone sposate qui ci sono famiglie qui ci sono persone anziane qui e tutti attraversano delle prove e delle tentazioni cari che questo sia il giorno in cui distogliete lo sguardo da tutto da tutto e guardate a Gesù Cristo il vostro Signore Salvatore e siate certi nel vostro cuore che tutto ciò che Dio permette che accada nella vostra vita vi porterà più vicini a Dio vi porterà più vicini a Dio non mormoriamo mai non lamentiamoci ma ringraziate il Signore per la grazia ringraziate il Signore per il sangue che è stato sparso per la parola che è stata rivelata e come abbiamo letto in due corinzi capitolo 1 noi crediamo che tutte le promesse di Dio sono sì ed amen tramite Cristo ma per mezzo di noi attraverso di noi tramite voi tramite me per mezzo nostro non senza di noi no la parola è venuta a noi e noi crediamo la parola e al ritorno di Cristo sarà manifestato che la parola è diventata una realtà attraverso di noi e i nostri corpi saranno mutati nell'immortalità e saremo con il Signore per sempre e per sempre ancora una volta vi ammonisco vi chiedo nel nome del Signore non seguite un uomo non andate in differenti direzioni non credete delle interpretazioni non credete delle spiegazioni credete Gesù Cristo credete la parola di Dio rispettate la parola di Dio e avrete parte nella finale effusione dello Spirito Santo come l'Apostolo Giacomo ha scritto nel capitolo 5 noi che aspettiamo il ritorno di Cristo sappiamo che il Signore manderà la prima e l'ultima pioggia e siamo al tempo della raccolta al tempo della raccolta il raccolto è maturo il raccolto è maturo e la mietitrebbia mieterà come ha detto il fratello Branham 17 volte ha parlato della raccolta e ha parlato della mietitrebbia e come sta scritto il Signore porterà il grano nel suo granaio e la zizzania avrà pure il suo posto cari io credo con tutto il mio cuore come certo che abbiamo predicato e insegnato soltanto la parola di Dio la vera semenza è la parola di Dio Luca capitolo 8 versetto 11 e abbiamo condiviso la vera parola di Dio abbiamo collocato la semenza di Dio nell'anima dei redenti nell'anima dei vincitori e loro vinceranno tramite il sangue dell'agnello e tramite la parola della loro testimonianza e io reclamo per il regno di Dio ogni anima presente per la sposa di Gesù Cristo ricevete le benedizioni finali durante il tempo della preparazione per il ritorno e per il rapimento che le benedizioni del Dio onnipotente riposino su voi tutti riposino su tutti i fratelli nel servizio che tutti siano benedetti coloro che condividono il vero cibo la vera parola in ogni nazione in ogni tribù in ogni lingua o signore apri i nostri occhi affinché possiamo vedere ciò che tu fai adesso che possa accadere qualcosa adesso signore proprio ora proprio ora proprio ora che possa accadere con ognuno qui presente e con ognuno che ascolta la parola di Dio e crede loro non saranno più come erano prima perché questo è il giorno che il signore ha fatto per noi tutti per prendere nuovo coraggio per essere fortificati e seguire Cristo e per essere pronti per il suo ritorno e noi diciamo maranata e lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ha orecchi dica vieni signore Gesù vieni nel nostro tempo noi amiamo vedere la tua apparizione e partecipare al rapimento a te l'unico vero Dio il Dio di Abramo Isacco e Giacobbe il Dio di Israele l'unico vero Dio noi diciamo lode onore gloria a te nel prezioso e santo nome del nostro signore Gesù Cristo e caro signore devo dirlo di nuovo io reclamo ogni anima che faccia parte della sposa di Gesù Cristo che sia pronta per il ritorno dello sposo mio Dio che possiamo prendere le nostre lampade ma anche i contenitori per riempire di nuovo per riempire di nuovo e caro signore ti ringrazio per aver riempito di nuovo le nostre lampade in tutti questi anni e ti ringraziamo che tu completi la tua opera di redenzione nel nostro giorno e nel nostro tempo beati gli occhi che vedono beati gli orecchi che odono beati i cuori che credono siate benedetti nel nome di Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore finché lo incontreremo nella gloria nel nome santo di Gesù amén potete accomodarvi che il Signore Dio vi benedica e sia con voi e vorrei anche salutare i nostri fratelli specialmente il fratello Michael egli ha un ministero particolare per tutti i paesi islamici egli ha intrapreso di nuovo un viaggio in Kuwait e nei differenti paesi della regione del Golfo e Dio ha benedetto in modo meraviglioso ieri lui mi ha detto che tutta la chiesa il pastore e sua moglie tutti sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo così anche nei paesi islamici il Signore Dio ha il suo popolo e pregate se il tempo sarà con noi ad ottobre e a novembre devo fare ancora dei viaggi in Sud America e poi un viaggio in Pakistan voi avete udito in merito alle straordinarie riunioni che abbiamo avuto in Pakistan 8000 persone erano radunate in un paese islamico per ascoltare la parola di Dio e cari se vi dicessi ciò che Dio ha fatto Dio chiama gli ultimi e il ritorno del nostro Signore è imminente che Dio benedichi al fratello Michael in modo speciale che Dio benedichi al fratello Emmanuel per tutta l'India e per tutti coloro che ascolteranno il messaggio dalle sue labbra e così tutti gli altri fratelli da Atlanta e da ogni parte e che Dio benedica tutti e sia con noi tutti pregate per me che il Signore mi dia abbastanza forza nel corpo per continuare ancora finché Egli verrà che Dio vi benedica grazie per essere venuti amén